in questa puntata di gong parliamo di tre trailer direi salendo progressivamente nella scala dell'interesse dell'ambizione e anche della qualità e anche del cazzo dritto assolutamente sì va bene se vogliamo iniziare così marco possiamo iniziare così cominciamo quindi dal basso non scelgo insomma di commentare qual è il livello di cazzo dritto di questo primo trailer che è stato pubblicato appunto nella giornata di ieri che si tratta di un teaser più che un trailer dedicato al nuovo capitolo di dragon age dread wolf electronic arts e bioware pubblicano qualche insomma secondo di video che mostra niente più che alcune delle ambientazioni insomma di questo gioco sono ambientazioni fra l'altro molto vuote insomma non si vede non sono popolate da npc è un po tipo mappa di game of trono come suggestione esatto lascia intravedere appunto alcune alcuni scenari più solari alcuni scenari invece più diciamo minacciosi cupi e avvolti dall'oscurità non c'è una notizia in sé all'interno di questo trailer se non negli ultimi secondi perché viene svelato che il reveal integrale di dread wolf arriverà la prossima estate nell'estate appunto del 2024 l'ho trovata una comunicazione abbastanza particolare c'è l'annuncio dell'annuncio tra l'altro a distanza di molti mesi verosimile pensare che questa sia una delle chicche della summer game fest di chili quindi per giugno 2024 ok cioè nel senso segniamo la calendario ma c'è ben poco da commentare la paura che ho io quando mi affaccio in generale al futuro di dragon age e a bioware una bioware evidentemente in crisi e lontana dai suoi antichi fasti che ha tantissimo ancora da ridimostrare da recuperare ha un nome baldur's gate 3 certo già secondo me era una situazione non favorevole a prescindere con un cliente così un ostacolo così diretto così uno a uno che ti trovi sul tuo cammino è una bella gatta da pelare è giusto anche secondo me posizionarsi belli a distanza non uscire con il trailer dentro ai tga per intenderci aspettiamo incrociamo le dita e vediamo auguri in bocca al lupo perché c'è talmente poco da commentare adesso speriamo davvero insomma che questo possa essere al di là di tutto un primo movimento di riscatto per bioware perché altrimenti insomma il futuro del team secondo me molto grigio molto importante perché hanno già parlato di mass effect ma è ovvio che mass effect sia molto 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 più in là anche questo gioco viene presentato l'estate prossima difficilmente uscirà l'anno prossimo se non è un gioco da 2025 tranquilli secondo me il punto è che arrivati in queste condizioni con il fallimento di anthem con altri problemi dentro altri giochi di ei eccetera per loro è importante che dread wolf vada bene per immaginarsi che poi ci sia uno spazio per mass effect quindi comunque staremo a vedere mentre il secondo trailer di cui vogliamo parlarvi è quello di no return la modalità roguelite anzi roguelike viene definita all'interno del trailer del remastered di the last of us parte 2 o insomma dell'upgrade insomma per chi il gioco ce l'ha già l'upgrade alla versione playstation 5 formalmente della di quest'operazione commerciale abbiamo già parlato possiamo entrare un filino più nel dettaglio di questa modalità che per me personalmente non non è l'elemento più interessante di tutta questa operazione anzi io credo che siano il commentary del team di sviluppo e l'inclusione di alcuni stage che poi sono stati eliminati dal gioco finale a rappresentare diciamo la parte più cospicua interessante intrigante della rimasterizzazione però invece evidentemente naughty dog e sony hanno deciso di mostrare la parte un pochino più ludica sono d'accordo con te c'è sicuramente il dietro le quinte da fan quello che mi affascina di più fermo essendo che resta abbastanza scettico sull'operazione abbastanza neofemismo qui si è mostrata questa componente che è basata sull'idea di interpretare un personaggio diverso seguendo un percorso fatto a bivi per intenderci un po come la scalata di slay the spire qui va in orizzontale invece che in verticale hai dei livelli con un'ambientazione diversa e diverse tipologie anche proprio di missioni sembrerebbe devi tendenzialmente sopravvivere a ondate di nemici all'interno di arene che sono quelle poi che hanno fatto la fortuna a livello ludico di the last of us parte 1 e soprattutto parte 2 legate a la piacevolezza del combattimento il doversi arrangiare la grande intelligenza artificiale dei nemici che collaborano ti stanono devi cercare sempre anche di uccidere a volte in maniera creativa ma soprattutto conservativa per risparmiare magari le munizioni per gli ossi più duri e sembra il trionfo di questa cosa con l'idea di un avanzamento progressivo con l'idea di lo dice anche il trailer armi e personaggi si sbloccano in corso d'opera quindi questa sensazione di progressione che è poi proprio dei dei roguelike stessi innestata sull'impianto ludico di the last of us in maniera secondo me molto conservativa e anche giustamente cioè non c'era bisogno di stravolgerlo farlo diventare altro mi domando quale possa magari essere l'interesse a lungo termine perché personalmente per esempio a me piace tanto la parte di gameplay di the last of us ma mi piace inserita all'interno della storia inserita come un po' un elemento mordi e fuggi adesso la quella quella fase lì poi mi guardo un pezzo di storia poi c'è il momento di platforming poi c'è quasi il walking simulator cioè come come parte di un'esperienza che è composta da più fasi metterla così tanto al centro non so quanto poi possa risultare interessante a medio e lungo termine vedremo guarda io sono d'accordo io ho trovato questa tipologia di approccio quando è stata utilizzata anche in altre occasioni sempre un po' posticcio faccio l'esempio di ghostware tokyo ma guarda ne parlavo anche stamattina pure laddove è stata introdotta in maniera più diciamo organica fin dall'inizio e penso al primo god of war cioè il god of war del 2018 che aveva proprio una modalità roguelike con generazione dei livelli procedurali in uno dei regni esplorabili l'ho trovata sempre un elemento estremamente marginale quindi credo che tanto più se viene aggiunta a posteriori possa fare la stessa fine vedremo c'è da dire che mentre le ambientazioni sono recuperate integralmente da quello che si è visto nel secondo capitolo qui effettivamente un po' come nella modalità mercenari di resident evil si può giocare con altri personaggi fra l'altro ognuno sembra avere un playstyle con un guizzo cioè un colpo di testa che è quello di avere addirittura un personaggio che è doppio perché yara e lev giocano insieme probabilmente uno dei due viene interpretato dall'intelligenza artificiale vedremo che lavoro avranno fatto vedremo se cambierà davvero poi l'approccio a quella che sembra un mix fra una modalità survival e una modalità order sai che me ne è venuto in mente uno che invece faceva le cose bene l'espansione di return al tanto per cambiare la torre di sisifo gli aggiungeva una parte roguelike che funzionava bene anche se l'aggiungeva già un gioco roguelike era più era più connaturato all'esperienza originale in maniera super brillante però più organica come detto tu prima rispetto a quello che era già la base del del gioco qui è inevitabilmente una cosa un po forzata ma era il gameplay già più arcade certo certo come detto tu giustamente in the last was parte 2 e anche in parte 1 il gameplay era parte di un puzzle di un disegno molto più ampio così come succedeva in ghostware tokyo così come succedeva in god of war mentre dall'altra parte ad essere marginale era comunque il racconto poi il nucleo centrale era gioca schiva ammazza e gestisce bene comunque staremo staremo a vedere il gioco cioè l'upgrade la remastered insomma arriva all'inizio dell'anno prossimo e sarà probabilmente uno dei primi titoli di cui parleremo nel 2024 fammi solo concludere una cosa bello il montaggio del trailer molto cadenzato con i proiettili i colpi le ricariche delle armi che creano un po la colonna sonora quello devo dire che mi è piaciuto non originalissima come cosa però è montata esatto martellante ti lasciava in testa l'idea di ok colpisco riprovo colpisco cioè quello l'ho trovato molto ben funzionale al racconto ecco nella seconda parte della puntata insomma passiamo all'ultimo di questi trailer di cui vogliamo parlarvi ed è un trailer insomma che fa la storia che fa la storia senza ombre di dubbio ovviamente ci stiamo riferendo al trailer di grand theft auto 6 un minuto e 30 secondi di trailer che già mentre registriamo ha accumulato quasi 70 milioni di visualizzazioni avvicinandosi pericolosamente al record del video più visto in 24 ore su youtube probabilmente non ci arriverà per poco e probabilmente non ci arriverà anche perché comunque insomma la storia della sua pubblicazione è un po particolare in quanto dopo il leak di ormai un mesetto fa che appunto aveva un po rotto le uova nel paniere al rockstar per quanto riguarda la comunicazione di questo trailer stesso anche il trailer è stato leakato doveva uscire nella giornata di martedì 5 oggi insomma che stiamo registrando alle ore 15 ora italiana diciamo così invece è stato pubblicato poco dopo la mezzanotte di ieri perché appunto era stata trafugata e diffusa una mezz'oretta prima una versione in bassa definizione con una scritta comprate bitcoin in sovrimpressione una cosa veramente tremenda tra l'altro ci ho pensato l'unica cosa che poteva farmi incazzare di più era comprate gli nft c'è un ulteriore motivo per odiare queste cripto e queste robe di merda lo dico da vecchio boomer ma giuro e vabbè visto che ci siamo commentiamo anche insomma un pochino brevemente questo leak che è un episodio purtroppo molto molto triste proprio perché arriva una manciata di ore dalla pubblicazione prevista calendarizzata e rompe un pochino anche quella sensazione di evento di community da poter seguire tutti quanti insieme e a cui poter compartecipare no guarda ho letto un tweet stamattina di un amico Antonio Corsa lo cito anche esplicitamente diceva è come guardare una partita sapendo già il risultato è chiaro che ti toglie il pathos ti toglie l'enfasi questo anche solo per rimanere alla parte più egoistica del del vissuto cioè al dire divertiamoci online raccontiamolo viviamo l'attesa il momento i commenti la chat eccetera eccetera senza rimanere fermi diciamo a quello che è la prospettiva da dietro il nostro naso mettendoci nei panni di chi a questa cosa monumentale lavora da mesi se non da anni ci sono i tweet stessi anche dei dipendenti rockstar poi hanno cancellato che dicevano tipo vaffanculo io volevo godermi questo momento in un certo modo la squadra era lì per avere anche un momento di gloria di vedere genuinamente le reazioni delle persone di festeggiare insieme di godersi un momento che tra l'altro è anche molto lontano dalla pubblicazione ma serviva anche per dare una motivazione forte per continuare nei lavori che viene completamente mortificato e distrutto dalla solita idiozia di persone che non capiscono quanto ci sia in ballo che non sono semplicemente videogiochi ma che c'è il lavoro la vita la fatica gli sforzi le emozioni di persone che non sanno rispettare violando peraltro la legge quelle che sono poi delle anche questioni aziendali molto serie e al di là di tutto dalla insopportabile mutellosità da bimbo minchia del videogiocatore medio che è incapace di attendere una cosa addirittura in questo caso c'era il conto alla rovescia cioè mancavano 14 ore per godersela tutti insieme ma no se qualcuno fa lo stronzo riesce a trafugare il filmato in quel modo invece che isolarlo invece che dire ragazzi attenzione state attenti iniziano a ritwittarlo in massa a guardare a commentare eccetera eccetera supportati va detto per correttezza nel senso intellettuale da una stampa che invece che anche lì stigmatizzare certi fenomeni di incentiva in una maniera squallidissima e colpevole per quanto mi riguarda e il risultato è che alla fine spalle al muro in 40 minuti sono trovati a dover pubblicare questo trailer va bene ci sei andato leggerissimo è giusto così anche io ieri sera sono rimasto abbastanza desolato purtroppo perché sarebbe stata proprio una bella occasione viverla sarebbe stata stupenda non sapere neanche un mese fa sta roba la shrine sarebbe stato epocale bellissimo un giorno a caso succede sta cosa al di là di quello possiamo parlare del trailer perché è un trailer veramente incredibile cioè fa la storia non solo perché accumula così tante view ma secondo me anche perché ribadisce una volta di più quanto rockstar non sbagli un colpo e sia maestra nel creare delle ambientazioni che sono piene dense significative avvolgenti trascinanti e capaci anche insomma di digitalizzare poi quello che è lo spirito dei tempi e in questo caso intendo proprio della nostra contemporaneità più evidente ma insomma ti lascio scegliere da che cosa vogliamo partire forse da la protagonista sì la protagonista lucia viene citata proprio anche in apertura del trailer è questo personaggio che per la prima volta sarà interpretabile appunto come una ragazza una ragazza di origini ispaniche che si trova in carcere all'inizio del gioco comunque nell'apertura del trailer e che poi si vede già durante il racconto di questo video ne passerà di tutti i colori vivendo anche fasi diverse si vede dei momenti in cui sembra essere in preda allo sfarzo più totale nel classico penthouse americano in bikini e con lo champagne a momenti di fughe dalla polizia rapine c'è il passaggio inevitabile con la macchina sportiva di notte cioè è un trailer che da un lato riesce a raccontare degli spaccati di vita americana a volte anche estremi a me ha colpito molto il tizio seminudo che innaffia il prato perché si e ti guarda anche male perché io sono tanga da innaffia il mio imperato che cazzo vuoi e però è potente proprio nel da una parte incarnare anche quei neon della vice city anni 80 che vengono però improvvisamente modernizzati tramite un linguaggio e un riferimento anche a delle tecnologie su tutti direi quella parentesi nemmeno così isolata a livello di minutaggio in cui si vede il rendering che passa da 9 sedicesimi 16 noni con la parte blurrata ai lati dello schermo perché viene mostrata di fatto una ripresa attraverso un cellulare a quello che sembrano social network tipo tiktok o i reel di instagram in cui persone pazze fanno cose che è di nuovo un'analogia uno spettro di quella che è la contemporaneità più totale e l'idea che se succede qualcosa tiri fuori il telefono la riprendi e la condividi ecco viene filtrata anche questa cosa attraverso la lente molto deformata e ironica di gta io anche insomma proprio a livello di linguaggio non ricordo un trailer che abbia utilizzato lo stesso meccanismo e quindi anche a me ha impressionato molto torno un attimo anche sulla componente narrativa perché se è vero che la protagonista centrale della vicenda almeno per come viene presentato gta 6 in questo trailer è lucia si capisce verso la fine del trailer che in realtà si tratta di una storia di coppia forse un pochino in cui riecheggiano delle suggestioni della storia di bonnie e clyde perché lucia si accompagna poi con un altro coprotagonista maschile di cui però non si sa il nome arriva a dire proprio che la figura centrale invece lei sicuramente in questo trailer almeno almeno in questo trailer certo insomma e alla fine proprio del trailer i due si dicono che per sopravvivere a tutto quanto dovranno stare insieme e fidarsi l'uno dell'altra vedremo se quest'altro personaggio sarà giocabile se si potrà passare da uno all'altro come in gta 5 si passava fra tre protagonisti questa è una cosa minimamente non si è fatto cenno un'altra cosa che a me ha colpito moltissimo è di nuovo la capacità di tratteggiare quelli che sono non solo gli eccessi dei social ma anche gli eccessi della società americana lo abbiamo accennato ma adesso lo diciamo apertamente si torna a vice city e fra l'altro per me è una scelta anche abbastanza coraggiosa perché si torna quindi a miami di fatto certo in florida che sulla costa est sì però sulla costa est è una costa est che sicuramente è un po meno di impatto a livello di immaginario globale rispetto a quanto non potrebbe essere new york certo è un'urbanistica completamente diversa che anzi lascia spazio anche un sacco di natura penso che si vedono le everglades i fenicotteri l'overcraft cioè è quella cosa che sì ci sono i grattacieli sì c'è un certo tipo di di nuovo urbanistica molto americana ma non è metropoli esatto esattamente questo secondo me è una scelta anche coraggiosa io tant'è che mi sarei aspettato più liberty city che vice city però sono contentissimo insomma di questa scelta proprio perché anche a livello paesaggistico ho trovato il tutto molto suggestivo proprio perché miami c'ha questa capacità di acuire ulteriormente i contrasti e le dicotomie della società americana qui veramente con questa da una parte aspetto molto solare colorato in cui recheggiano anche vibrazioni che sembrano il lascito degli anni 80 eterni in cui la città è un po sospesa e poi dall'altra parte ci sono appunto davvero gli accessi della società americana le storture anzi della società americana che sono ben visibili a tutti quindi di nuovo una grande capacità anche di raccontare gli stati uniti e quell'impasto culturale alle volte così apertamente disfunzionale letto attraverso però la lente di una scrittura che invece è puramente inglese altrettanto secondo me degna di nota ovviamente la componente tecnica che si intravede non ci sono sequenze diciamo apertamente di gameplay con l'inquadratura del personaggio da dietro ma chiaramente tutto quello che si mostra è in engine sono cazzino cose credibili e il punto è che l'impatto è sicuramente spaventoso è spaventosa secondo me l'illuminazione veramente bellissima sia di giorno che di notte livello di dettaglio molto alto mi ha impressionato tanto l'acqua per esempio la draw distance la capacità di mostrare la foschia del tramonto il cielo terzo invece del delle giornate di sole dei tropici di fatto perché li stiamo e e poi in generale un livello di dettaglio molto molto alto per un gioco che sembra avere una scala impressionante la planimetria della mappa che si anche solo dalla skyline di vice city sembra essere molto più estesa di quella di los santos di gta 5 e il punto è che mappa più estesa con questo livello di qualità grafica di ricchezza dei personaggi di animazioni di densità poligonale anche perché per esempio la scena sulla spiaggia dove si vede veramente una masnada di corpi seminudi e molto diversi fra loro come è appunto quella ricchezza anche grottesca delle spiagge americane e lì viene ritratta con un livello proprio di ricchezza di particolari molto sopra le righe e devo dire che questa cosa sicuramente fa impressione vabbè come fa impressione in generale il montaggio le scelte musicali bello sì sì un brano non particolarmente famose della fine degli anni 80 long is a long way road love sì scusate love is a long way road di tom petty dell'89 che diventerà un cult da oggi assolutamente citiamo appunto in chiusura che le piattaforme di destinazione di gta 6 al momento stando al comunicato stampa perché nel trailer non si vedono loghi sono playstation 5 e xbox serie x e non viene fatta menzione del pc ed è una un comportamento usuale nel caso di rockstar perché di solito la versione pc viene ottimizzata successivamente e lanciata sul mercato un annetto dopo probabilmente quella console staremo a vedere se sarà così anche in questo caso la data d'uscita fissata per il momento è 2025 senza neanche una specificazione sulla stagione io devo ammettere speravo che potessero puntare sulla fine sulla holiday season del 2024 holiday season che poi si allunga formalmente anche a gennaio diciamo così stando così le cose mi aspetto che l'uscita non arrivi sicuramente entro il fiscale ecco se nella migliore delle ipotesi per me forse maggio aprile siamo completamente d'accordo non volevo dire che te l'avevo detto ma te l'avevo detto nel senso che mi aspettavo comunque una pubblicazione molto in là è chiaro che ci stanno lavorando da tanto tempo infatti il gioco che si intravede in questo minuto e mezzo è chiaramente un gioco comunque avanzato ma le ambizioni che ci sono dietro secondo me si traducono in tempi di attesa consistenti il fatto che non ci abbiano messo come dicevi tu nemmeno non un mese ma neanche una stagione neanche late neanche early con indicazione anche super generica lo dico secondo me si traduce nel fatto che non hanno ancora deciso loro quando esce cioè siamo talmente distanti siamo a verosimilmente un anno e mezzo probabilmente aspettiamo e vediamo probabilmente non hanno voluto fare l'errore di starfield che il 16 mesi prima ti dice il giorno esatto e chiaramente poi non lo mantiene perché era comunque un atto di fede totale rockstar che già in passato spesso e volentieri ha ritardato i giochi dopo aver annunciato una data qui secondo me si è letteralmente presa più tempo per dire quando è è e ha dato un'indicazione comunque generale che fa capire che il gioco è tutto fuorché dietro l'angolo e visti che questi sono i tempi adesso mettetevi comodi perché per il prossimo diciamo momento di comunicazione dovrà passare un bel po di tempo grazie per averci seguiti con gong torniamo domani ciao